Approvato il rendiconto generale dello Stato, con 308 voti favorevoli e un astenuto. Le opposizioni erano in aula, ma non hanno preso parte al voto, per dimostrare che la maggioranza non ha più i numeri per governare. Il leader della Lega Bossi chiede al Premier di fare un passo laterale, ma il suo voto sul rendiconto resta positivo. Il Premier. Attenderò 24 ore per valutare la tenuta della maggioranza, in caso di numeri scarsi e lezioni anticipate. La russa. Abbiamo i numeri. Minzolini. Un governo diverso dall'attuale non è possibile. Non sarebbero attuabili le riforme concordate con Bruxelles. Ma Di Pietro ha i suoi dubbi e parla di macelleria sociale. Marcegaglia. Urgente fare riforme con o senza Berlusconi. Anche i fedelissimi abbandonano la maggioranza. Persi altri 8 voti rispetto alla fiducia del 14 ottobre, che contava 316 voti. Mentre il 14 dicembre 2010 i voti di fiducia al governo erano stati 314. Ma la vera sfiducia è arrivata ieri dalla borsa, quando i listini sono balzati dopo la dichiarazione del direttore del Foglio, Giuliano Ferrara. Le dimissioni di Berlusconi sono una questione di ore. In poco tempo lo spread è passato dal 4,90, meno 2%, a 4,70, più 3%. Subito dopo la smentita del Premier, lo spread è risalito a 4,82, più 1,7%. L'altalena fra borsa e dichiarazioni continua a rendere instabile l'economia dello stivale e in vista del nuovo vertice tra Berlusconi e i leader leghisti e del PDL, la tensione sul differenziale continua a farsi sentire.